Salute ragazzi, questo è il Watermelon Channel. Finalmente abbiamo una buona notizia, o meglio, comunque una notizia. Praticamente l'azienda videoludica Take-Two Interactive, ovvero l'azienda che ha prodotto, oltre alla Rockstar, GTA 5 e GTA in generale, ha riportato il suo report finanziario su Twitter, ha diffuso i documenti e ha fatto denotare come GTA 5 sia andato benissimo negli ultimi anni, ma non avevamo dubbi perché i numeri, sapevamo già, erano abbastanza importanti. Ha fatto un successo clamoroso, tuttora successo, specialmente con le versioni remaster di Sant'Andreas, Vice City, che però in effetti non è che siano andate benissimo, ma quella che è andata piuttosto bene è la versione di aggiornamento del gioco di GTA 5, cioè di GTA 5 per PlayStation 5. Quindi diciamo che si è presa un po' di tempo per poi dichiarare, proprio tra ieri e oggi più o meno, tramite un tweet di Idoleslot, non so se l'ho pronunciato bene, che praticamente ha annunciato che GTA 6 non lo vedremo prima del 2024-2025, sarà rilasciato appunto in uno di questi due anni, 2024 o il 2025, per cui sicuramente non è il 2023, perché infatti nel report c'erano scritti giochi che usciranno prima dell'aprile 2023 della casa videoludica Take-Two, che sono Kerbal Space Program 2, Marvel's Midnight Sun, New Tale from the Borderlands, NBA 2023, WWE 2023, The Quarry, PGA Tour 2023. Questi saranno i giochi che verranno rilasciati prima di aprile 2023. GTA 6 non viene minimamente menzionato, per cui ci si aspettava insomma che non uscisse nel 2023, però più o meno abbiamo già un margine di uscita che è quello tra il 2024 e il 2025. Io credo che se vogliono fare una cosa intelligente, se ce la fanno in tempo chiaramente, nelle festività di Natale del 2024 sarebbe proprio l'ideale. e posso azzardare appunto a questa ipotesi che potrà uscire appunto verso la fine del 2024. Oddio, è in fase di sviluppo, infatti hanno annunciato che era in fase di sviluppo, però per questi giochi qui ci vuole un parecchio tempo di programmazione, eccetera, quindi comunque per non fare la fine di Cyberpunk 2077 o di altri giochi che comunque sono risultati baggati fondamentalmente al lancio, per quanto riguarda GTA credo che comunque saranno attenti ad annunciare una data al fine di evitare errori di questo tipo, di bug, di comunque di malfunzionamenti in generale che certamente dopo tanti anni di attesa, perché dall'ultimo GTA sono passati parecchi anni e ne passeranno ancora, fintanto che non uscirà il 6, per cui dopo tanti anni di attesa ci si aspetta comunque un gioco completo. Speranno che non facciano come Starsfield, come altri giochi che hanno prima detto una data e poi hanno continuato a rinviare, quindi per ora c'è questo margine 2024-2025, sperando lo portino verso fine 2024, ma non è da escludersi che potrà essere rilasciato addirittura nel 2026, come molti altri ancora ipotizzano. La scusa, diciamo, del Covid non c'è più, nel senso che ormai tutto è tornato operativo, come prima, a meno che non cambino le norme nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Speriamo di no, speriamo che torni tutto quanto alla normalità e quindi diciamo che a livello di ritardi speriamo appunto non ce ne siano oppure che non ci siano parecchi ritardi, tipo che dal 2025 dicono lo lanciamo per esempio ad agosto 2025, invece lo lanciano a settembre 2026, cioè per esempio, faccio un esempio così, speriamo che appunto non ci siano troppi rimandi perché già ce ne sono stati parecchi su tanti giochi negli ultimi tempi e speriamo che appunto non esca un gioco estremamente buggato. I bug ci stanno al day one, i primi giorni, chiaramente gli aggiustamenti ci sono sempre in qualsiasi videogioco, però speriamo che comunque vada tutto bene e speriamo che esca quanto prima. Comunque vi ho dato la data di lancio che più o meno è prevista tra 2024 e 2025 secondo Idle Scott e niente ragazzi, io spero sempre per il meglio, spero che esca quanto prima perché stiamo tutti quanti attendendo ormai da tempo un GTA 6 che dovrebbe avere anche una mappa ambientata a Londra, un paesaggio londinese ma ancora ancora non è definito nulla, quindi io vi sto dicendo rumors che ho sentito nei vari tweet. Comunque ragazzi, niente, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile se è così mettete mi piace, per qualsiasi cosa scrivete nei commenti e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nostro nuovo video oppure ogni volta che siamo in live per seguirci e continuare a supportarci. Grazie e alla prossima, ciao!